Noi siamo stati scossi da un incidente che è avvenuto il 24 gennaio, una ragazza di 15 anni si è buttata sulle rotaie, si è buttata e caduta, è successo qualcosa che ci ha fatto riflettere sull'importanza e sul valore della vita. Marida De Vita dell'associazione Fidati di Te spiega la spinta che l'ha portata ad organizzare Incontrarci, un'intera giornata in cui la cultura incontra il sociale per riflettere su un fenomeno preoccupante e crescente. Negli ultimi quattro anni il tasso di autolesionismo e tentativi di suicidio tra ragazze e ragazzi è salito del 30% in tutta Italia. L'incontro di oggi che proseguirà per tutta la giornata sicuramente è importante, poi però quando questi ragazzi tornano a casa, sono da soli, cosa bisogna fare? Allora intanto oggi ci sono io come coach relazionale e ci saranno due medici proprio perché vogliamo dare strumenti che i ragazzi, che le famiglie porteranno a casa. Quindi qui impareranno qualcosa, saranno tre laboratori concreti e quindi già avranno delle informazioni da portare a casa, qualcosa che ripetendolo possono utilizzare per migliorare sia il rapporto d'incontro e sia la gestione dell'ansia. Il progetto è stato condiviso dalle fondazioni Anfas di Pescara e Chieti, dall'associazione Si può fare e dal centro Antiviolenza Inside. E' intervenuto anche Antonio Lera, medico neuropsichiatra, che ha parlato del percorso che passa dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. Quindi accettare tutte le diversità? Assolutamente, tutte le diversità, a partire da quelle di genere, per tutte le situazioni di difficoltà sociale, tutte le situazioni in cui magari ci sono delle disabilità o mancate abilità, diciamo, io direi abilità meno espresse e magari forse da, come dire, recuperare attraverso una lettura diversa. Chiusura con l'assessore alla cultura Maria Rita Carota. Cultura, arte, musica, cibo fondamentale per la mente e per l'animo? Certo, tutto contribuisce a far stare meglio le persone, tutti gli individui hanno bisogno di una loro capacità di riprendersi il proprio ruolo all'interno della propria famiglia, della società. E quindi benvengano tutte le occasioni in cui questo può avvenire e sono sicura che avverrà anche oggi con successo.